Sette ore Sono le 10 meno 10 e ci manca ancora circa 20 minuti e non ce la faccio più ragazzi Buongiorno ragazzi, allora finalmente sono arrivato, sono arrivato ieri alle 11 e poi ho mangiato le tagliatelle Sì alle 11 E magari molti di voi che non mi conoscono si saranno chiedendo ma perché ho fatto 7 ore di viaggio Perché io sono nato a Pescara e quando avevo 7 anni mi sono trasferito in Friuli E quindi tutti i miei parenti sono a Pescara e quindi ogni circa 2-3 mesi vado là Ah beijini sereo, è preso, no? Sì sì Black Midnight Buona Pasqua, tanti auguri Mangiate poco cioccolata, mangiate troppo colonna, insomma Ma che sia una buona Pasqua per tutti E anche Pasquetto va Ciao Ciao Che cosa ne pensi della Pasqua? E' una rottura di palle Perché? E' perché è così, le teste tritano il fegato Ho messo le... non lo so come si chiama Perché i piccioli si appollaiavano sopra la canna fumaria della caldaia e cacavano Ah che bello Io li ho impiti di... di spini, di... di filo spinato Così io rompo il culo là Questa emerge, guardate che bello Qua sono anche le coppe che ha vinto Questa qua è bellissima Che figata Grazie Grazie Iscrivetevi al canale Che figata Che figata Allora oggi è l'ultimo giorno di viaggio Vedete che questi sono gli occhiali vecchi Perché gli altri si sono rotti Che bello, quindi noi sono rotti E beh comunque adesso noi andiamo a mangiare E domani parto E quindi per un pochettino finire il vlog Grazie a tutti